Segretario, insomma, liste fatte? Abbastanza, abbastanza. Non siamo ancora alla conclusione finale, ma insomma possiamo dire che ci siamo. Ci può dare qualche nome? No, non sarebbe corretto nei confronti né dei candidati né di chi ci ha lavorato attorno. Bocche cucite al K3 sui nomi trevigiani in lista alle prossime regionali. Nel giorno in cui il governatore uscente incassa anche il sostegno di Fratelli d'Italia e con i sondaggi che darebbero la Lega al 40% e la lista Tosi al 10%, ieri sera sarebbe arrivato in via libera definitiva i 27 nomi al seguito di Zaia. Tre le liste individuate, quella politica della Lega e i due civiche, una a nome del governatore e l'altra detta degli amministratori. In quella Lega, oltre ai nomi che circolavano nei giorni scorsi, le novità arriverebbero con l'ex sindaco di San Biagio Francesca Pinese e il vice segretario di Gaiarine Giuseppe Fantuz. Conferma di Firmino Vittoria, Angela Colmellere, Marco Serena, Riccardo Barbisane del consigliere regionale Giampiero Possamai, ma anche di Fulvio Pettenà, presidente del Consiglio Provinciale. Nella lista Zaia spiccano i nomi di Stefano Busolin, attuale presidente di Ascotrade, ma anche di Silvia Rizzotto, presidente della Holding, poi Sonia Brescacin, Sergio Martone e Alberto Villanova, attuale assessore provinciale. Una candidatura aggiunta nonostante il veto del presidente Muraro per tutti i suoi assessori. Non è che poi il presidente si arrabbia? Ma io spero di no, insomma è rimasto in Lega, speriamo ci dia anche una mano perché rimanere in Lega prevede anche quello e sono convinto che alla fine faremo tutti assieme un buon lavoro. Nella terza lista detta degli amministratori, l'altro assessore provinciale Gianluigi Contarin, accanto a nomi conosciuti come Giovanni Azzolini, Gianangelo Boff, Marika Fantuz, Alessandro Bonet ed altri meno conosciuti come Diana Tiso di Crespano o Carmela Poliendro di Salgareda. È stato un parto difficile? No, assolutamente, le segreterie provinciali hanno lavorato in assoluta autonomia, hanno stilato quelle che erano le liste che poi sono state prese in considerazione, eccetto qualche valutazione fatta, diciamo che sono state abbastanza rispettate.